eccomi qua ragazzi ma l'ho fatto apposta ma l'exì le mani martina alza le mani martina alza le mani martina alza le mani se a fine live ti f***i un rosso siiii puoi vedere il regalo che ti fatto prima? bomba mazza che ciapa ecco ecco però spiega come te l'ho regalato eravamo insieme è arrivato insomma il ragazzo per vendere le rose tu non me l'hai regalata no no aspetta io ho dato un segnale all'altro ragazzo di prendere la montagna ovviamente non è proprio così non è proprio così e me l'ha regalata un altro ragazzo però però è come se l'avesse regalata io perchè non ho la carta facciamo finta facciamo finta cioè non la vuoi più la rosa? no certo che la voglio ahhh 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 martina il mio amico luca vuole un saluto erotico un saluto erotico luca? si ciao luca sono martina ti mando un sovrabbacione mh 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 m quella anche musica la tua tipa nuova in chat fa la pervertita mandano su whatsapp della fragolina non mi ha il buono solo fa la tua tipa nuova muove la colita la tua tipa nuova in chat fa la pervertita mandano su whatsapp della fragolina non mi ha il buono solo l'infanzo e abbaio sull'apare sono rosso io la scopo con la candida ne esco rosso pieno di sangue anche se c'ho la minchia pallida le piace la matita gliel'ho fatta sparire non sono marcilena ma ho droga da giugino alte 1,50 bianca come le sue scorse parli inglese la mamma e mi dice sempre off course ha due tette da 10 kg è una delle più belle che ho visto in tutti questi anni la tua tipa nuova in club muove la colita la tua tipa nuova in chat fa la pervertita mandano su whatsapp sono dei piccoli bigliettini con delle piccole cose da fare e la cosa meno grave è farmi un bocchino e la cosa più grave è quella di andare di là e scopare non mi esprimo neanche non si conquistano così le donne è tranquilla no ma non mi vuole neanche dirla sta roba fai un cioccino ma che è un cioccino dai dai no il cioccino non è un bocchino è un cioccino lo faccio da te per favore per favore un cioccino dai dai un cioccino io passo io passo cioè un po più romantico deve essere amore non voglio farti un cioccino cosi faccio che facciamo vicenda così dai dai e non vuole ja dai vi hai fatto gioggino ragazzi questo è venito vostro ma devo fare una sommessa prima in culo no ok questo iscri chromo penso ok ok alzati devo fare tutto io questo è una prova di fiducia no ovvio che non mi fido di te amore ma posso leggere ma è la sorpresa dai amore oppure hai quello che vuoi fare alzati alzati ok questa è bella cosa devo fare devi chiamare la tua vita e fingere che stai scopando cioè non devi fingere devi far finire di essere in un momento intimo già giuro che mi fai sono impegnato devi far intendere che stai facendo altro e voglio dare una sorrezione chiamo un tuo amico se vuoi va bene chiamo vale chiamo vale gill ross for ross opion gill ross for ross opion gill ross for ross opion mmm vale no 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 che c'è chi ci ha in testa di sgarciò ma da nuova no volevo cioè diciamo che io sono abbastanza contro lo stereotipo ok e la donna spessa è molto stereotipata ma oggi abbiamo ospite martina smeraldi nata a caiglia rizzi dicembre del 99 porno attrice nota per i suoi video super seguitissimi dai cosiddetti Zoomer, vanta collaborazioni con Max Felicitas, Rocco Siffredi e tanti altri. E' una porta bandiera di una classe di lavoratrici sempre nell'occhio del ciclone, accusate di essere persone superficiali, che nella vita non hanno mai lavorato un giorno e che sfruttano i momenti di perversione degli uomini per sottrarre loro più soldi possibili in preda all'eccitazione. E' giusto questa? Mamma, l'hai fatta tragica. Ma una delle accuse più grandi che ho letto sotto i vari posti e articoli in cui vieni citata, è quella di essere ignorante. Tu ti reputi ignorante? No, però adesso non farmi le domande di storia. Non voglio farti delle domande della pressoria. Posso, diciamo, porti dei quesiti? Ci siamo? Ciao Martina, benvenuto al FUB quiz. Domanda numero uno. In che anno l'Italia ha vinto i mondiali? Ma dai, non lo sai neanche tu questo, che cazzo ne so? Ma io non mi... Dai, amore, non cazzo ne so. Oh! Bravo Martina! È facile questa, andiamo sulla matematica Martina. A quale numero corrisponde quattro mezzi? Due. Bravissima! Un applauso! Dove ha sede il Parlamento Europeo? A Bruxelles. Ma è bravino, è un fenomeno! Ma non ci credo! Questo è il nostro stereotipo, che quando dite che le tipe sono sono fighe e non sono intelligenti. Ops. Tu sei fighe di... Occhio Martina, non vorrei prendere domande un po' più difficili. Rimanga umile, per favore, rimanga umile. Andiamo con la quarta domanda. No, basta! Questo è il quale cazzo! Quale tra questi paesi non fa parte dell'Unione Europea? Lettonia, Cipro, Inghilterra, Austria? Inghilterra. Ma poi è un fenomeno, ma è un fenomeno, vaffanculo! Ma dai! Ci sono delle cose che voi donne si dice non sappiate fare. Una di queste è guidare. Hai la patente? Sì. Perfetto. Allora tu dovrai per forza sapere queste cose qui. Martina, andiamo con la domanda numero uno. Vedi l'immagine? Come la ritirano? Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura, i veicoli A ed S transitano contemporaneamente dopo il passaggio del veicolo T. Vero o falso? La presenza è sempre a destra. Quindi A e S transitano contemporaneamente, sì o no? No. Vero o falso? Vero. Era falso. Perché? Non mi hai detto a scuovere! 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 Fermo un attimo, fu bene? Cioè non vale così, mi rifiuto. Eh? Oh ma penso di merda, ma non ci metti! Sei nello sorgso! No, 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 vai for curato in un'invito, vai! Un secondo, un secondo, aspetta! Oh! Merda, bro. Merda, bro, meh. No, non aprire. No, 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 no. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, 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 aspetta. Sarada è impegnativa per Martina oggi. Stis sei un porno, dai. Non è insieme? Sì? Ma ci sei pronto? No! E allora? Ah beh, fa ridere, si torna anche tre minuti e venti, compreso di spoiler e intro e tutto. Devi essere sicuro, se sei sicuro. Poi non puoi tornare indietro, eh. Io, ma posso chiederti, perché devi rovinare le sedute a tutti noi? Cioè, pensa a un abbonato del Rosso, che porcozio cerca Martina Smeraldi e si vede la tua faccia, mentre, cioè, no, mi rovini veramente, non pago, non pago più Martina, te lo dico. Io sono molto verino, guarda. Ma non pago vederlo adesso, per favore, basta. Come adesso? Ma io pago sulla figa. No, per favore, però, cioè, tipo, la pago sulla figa. Cioè, è una hit. Cioè, i partiti scherzi sono molto carino quando faccio l'amore. Cioè, sono un cucciolone. Top tre frasi del Rosso a letto? Dammi un bacino. Fammi un ciuccino. Fammi un ciuccino. E... Ti iaculo sopra il tritoride. Oh, l'ultima la salviamo un po', dai. Bravo. La salviamo. Allora, Martina, noi facciamo un gioco spesso in... In questa trasmissione. Il gioco consiste nel... Tu stai saltare a piedi... No, mi sembra eccessivo. No, no, no. Ma che succede? No, mi sembra... Ti stai succedendo? Su. Ai, stai reale. Ah, porca putt... Aia! Su, ma è stato? Ah, per favore. Ma è il pazzo. Ah, per favore. Che c'è? Che c'è? Eh, sei invitato. Ci invita nelle live di merda e non ci invita nelle live in cui vogliamo essere invitati. Ma non ci dici niente, è rosso. Ci inviti solo nelle live di merda in cui serve content. Va bene, dai. Va bene, me lo ricorderò. Eh, capito. Quando dobbiamo carriare le live ci invita sempre. Eh, bravo. Cioè, non ha combattuto zero per me. Vabbè, ma viene con la leggera. Ma che c'è? 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 Guardalo. Nel senso, guardalo. Ma guarda per questa. C'è una sorpresa per FUB. E metti la canzone in cui canto Valerio Mazzei e esco dalla live. Questo è FUB è rosso. Questo è un attacco frontale, ma non rinego ciò che ho fatto. Ma cosa fai? Il vero... Il vero riconosce il vero, Mazzei. No, non c'è la mia ganta. Che c'è la mia ganta? Che c'è la mia ganta? Vieni, ma vengo a Marti. Ma non credi? No, no, no. Pazza che c'ha... No, però... Ma è tutto la stessa roba, dite? Ma è un capone. Mi ricordo una bella scena, questa. Anche a me. Vede? Ci sta a dire, no? Non vedo la... Non vedo la... Non vedo la scena, non vedo la scena. Non vedo la scena. Non vedo la scena. Io non vedo la scena. Non vedo la scena. Come una famiglia. Ma sai che sembra l'inizio di un porno? Tipo facciamo... No, facciamilo. Comunque, facciamo la scena di una scena. Tu sei... Tu chi vuoi essere in questa scena? Me. Beh, in effetti. Nel senso... Io c'ho già il mio. Noi chi siamo? Pensiamo a fare tipo... Quelle cose che... Voi siete gli elettricisti. Va! Quelle cose è un po'... Aspetta tutti... O se vuoi uno... Staff, datemi la mano con te. Uno fa tipo il mio marito E poi arriva l'elettricista. Allora, chi è che fa il marito? C'è di te, c'è di te. C'è di te il marito? Ah, vabbè, c'è di te. C'è di te, c'è di te. Tutte le scene... C'è di te. Tu fai essere il marito. No. Eh, sono mai deciso, no? Poi io c'è il marito. Tu sei il marito. Tu sei il marito. Io sono il marito, moglie, il figlio e i due elettricisti. No, allora, tu sei mio marito però gli elettricisti ha il meccano. Tre elettricisti? Che cazzo io? Ci sta, ci sta. Iniziamo la scenetta, ok? Cena, porno, tre elettricisti inculano Martina Smeraldi. Il rosso inculato. Mori oggi a lavoro, sono uscito con il capo e gli operai. Il capo non mi parla come prima, adesso purtroppo perché calcola che vabbè, come se aveva fatto una segala, non so, come ti avevo detto. Ho fatto questa segala e poi il tipo si è un po' incazzato. Robi del cenere. Vabbè, vabbè, posso parlare. Io vedo anche che qua bisogna che si stiamo in una lampadina. Eh, chiamatele e decise, adesso mi freghi che ci stiamo in un cazzo. No, ma li chiamavi tu. Pronto? Pronto? Sì, mi dica. Sì, avrei bisogno di tre elettricisti per sistemare una lampadina. In tre, bello ragazzo di lampadina. Eh, sì, perché ho bisogno, ho bisogno, sì, della lampadina. Vabbè, arriviamo, ma è grande la lampadina? Eh? Vabbè, arriviamo, ciao. Ah, grazie. Ma spesso, spesso, è una domanda. Ma tu muovi, è figa? Ma sì, carina, dai, ma non è una cosa importante. Arriviamo, arriviamo, ciao. Non è una cosa importante, non è una cosa importante. Vai tranquillo, amore, sei bellissimo. Aspetta, mi appoggio qua il telefono. Drin e Don, entrate. Ma chi è? Ciao. Ciao, Martina, mi sei? Come? Martina. Martina? Come come c'è? Come c'è? Ciao, grazie. Paolo, siamo qua per trovare la casa di lampadina. Finalmente siete arrivati, perché mio marito non sta a fare niente. Ma non è immagino. Io vado un attimo di Gerardo. Vado un attimo di Gerardo. Poi c'è un attimo di Gerardo. Allora, come va con tuo marito? È un po' così, non è più quello di prima da un po'. Tipo? Eh, diciamo un po' scarico, sempre sonno. Ma sempre sonno. Grazie. Cioè, immaginavo, immaginavo, gira sempre. Ma volete che vi aiuto? Grazie. Si, dacci una mano, poi andai a prendere un attimo una cosa là. Ah, ok. Grazie mille. Ok. Lampadina. Lampadina? Camera. Ma ce l'avete matta la lampadina a casa di là? Eh sì, puoi tanto fare in camera. No. Ciao. Ma tre lampadine ci sono? No, 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 no. Pasta. Ah, tre lampadine ci sono. Ah, sì, sì. Tre lampadine. Tre lampadine. Ma poi ricorda subito. Dai, latta. La lavorate e tu non iniziamo in gasolina. Io di solito la skipo sta parte. No. Bellissimo. Un applauso. Brava scena legna di Oscar. Allora, tu sei a twercare. Non cercherò qua. Io so a twercare. Ma la danza a Jinja. No, no, io so a twercare. Ok. Io so veramente a twercare. Però dovevo a twercare, se hai una twercare da solo. Tu non sei a twercare. No, ma io non cercherò qua. Non voglio cercare. Se voi cerco per te, basta da soli. Sì, sei il muro. Cioè, da soli. Solo per te. Però così non mi va. Quindi se io adesso spengo la cap. Ok. Tu tu il che resti per me, davanti a me. Ok. Ragazzi, scusatemi un attimo. Due secondi. Cioè, datemi un attimo di tempo per quello. Non per altro, ragazzi.